Per tutto questo 2010 Torino sarà capitale europea dei giovani, quali speranze dei protagonisti? Ecco le voci che abbiamo raccolto stanotte tra la festa di Piazza Vittorio Veneto sul Po e le riflessioni all'arsenale della pace. Matteo Spicuglia. La mole antonegliana con la grande Ypsilon di Young, giovani. Torino è da stanotte capitale europea delle nuove generazioni. Il sindaco Chiamparino, la presidente della regione Bresso, hanno ricevuto il testimone della città olandese di Rotterdam. Inizia un anno di eventi che servirà anche per fare il punto sullo stato delle politiche giovanili. Ma per i giovani quali sono le priorità? In Piazza Vittorio stanotte si è pensato più che altro al divertimento. Diversa la scelta dei giovani di tutta Italia arrivati all'arsenale della pace per partecipare alla marcia e al cenone del digiuno del Sermig. Una serata di canti testimonianze sul tema della riconciliazione tra giovani e adulti. In famiglia, nella vita personale, nel lavoro, di fronte alle ingiustizie. È giunto il momento che si smetta di considerare i giovani per l'età che hanno. Non è l'anagrafica che conta, ma sono le capacità, la preparazione, l'apporto che uno può dare, anche piccolo. L'importante è che però i giovani lo dia. L'importante è che i giovani si facciano trovare pronti a dare questo apporto alla società. Credo che gli adulti debbano guardare i giovani come al futuro e non solo come consumatori del presente. E noi giovani dobbiamo pensare non solo al momento, ma guardare anche al futuro. E progetti più vere, più vissute veramente. Noi vogliamo dare stazio ai giovani affinché i grandi possano ritrovare nella forza dei giovani quello che loro hanno perso per strada. Grazie.